Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video un po' particolare perché oggi voglio condividere con voi la realizzazione di una cosa che ho sognato da tanti anni e che adesso sono riuscito a completare. Voglio presentarvi finalmente la mia home gym personale. Venite con me e ve la faccio scoprire, dai! Ok ragazzi eccoci qui nella mia home gym, come vi dicevo dopo tanti anni che ho in mente di realizzarla, finalmente ho coronato questo mio obiettivo, questo mio sogno, possiamo anche dirlo, come lo volevo. Quindi adesso vi spiegherò perché ho scelto questo tipo di macchine, perché vedrete anche delle macchine piuttosto adattate, vi spiegherò che cosa c'è dietro, insomma venite con me perché vi voglio dare qualcosa di mio. E allora per prima cosa non può mancare la parte cardio, ho scelto un tapirulan e un'ellitica della technology in questa linea, è una linea un po' datata, ma che a me piace moltissimo e ricorda anche quando mi allenavo tempi addietro, quindi ho voluto scegliere proprio questo tipo di macchine. Questa va a batterie, nel senso che si accende solo se la usi, infatti adesso l'ho mossa un attimo per farla accendere, altrimenti va in risparmio energetico e si spegne. Il tapirulan è un classico, ma è immancabile per una palestra. Venite con me, vi faccio vedere un po' che cos'altro ho scelto. Come vedete, per chi se ne intende, troverete già la linea Lux di Technogym. Ma Manuel, ma è una linea un po' datata, come mai? C'è un bel motivo. Primo perché è una linea che secondo me è quella che ha fatto la rivoluzione anche per la Technogym stessa, è quella che ha lanciato Technogym un po' in tutto il mondo, perché hanno tirato fuori questo colore, questo abbinamento bianco e nero che la rende molto elegante e quindi ha fatto un po', per chi non lo sapesse, un po' il boom nelle spa, negli hotel, appunto un po' in tutto il pianeta. Ma soprattutto la ritengo ottimale come movimenti. Come cinetica è fantastica, quindi anche se è un po' datata, è sempre veramente al top. E in più mi ricorda anche un po' quando ho iniziato in palestra. In realtà ho iniziato molto prima, però questa linea Lux ha segnato per me tanti anni di allenamento. Come vedete i dischi, qui ne vedete un po', sono super rovinati, sono vissuti, significa che hanno fatto lavorare molto i muscoli e li ho voluti apposta così. Questi li ho da diversi anni e mi ricordano tutte le fatiche che ho fatto, non li ho voluti cambiare, quindi anche se sono senza vernice, sono brutti da vedere, fa niente perché mi hanno dato tanto. Quindi i dischi li ho voluti mantenere. Ovviamente abbiamo la parte con la zona dedicata a spalle, questo per il petto. Qualcuno vedrà subito e dirà, ma questa lat, ma che c'entra? Cioè che cos'è? Una cosa artigianale? Sì, in realtà sì, sono molto affezionato a questa lat machine. Io mi alleno con questa da quando avevo 16 anni, 17 anni, quindi si parla di quasi 30 anni che mi alleno con quella macchina. Vi dico una confidenza che vabbè ormai andrà su un video YouTube, quindi non diventerà più tanta confidenza, però comunque è una cosa mia personale. Questa macchina e un'altra che andremo a vedere dopo, che chiamo il carro armato, era a casa di un mio carissimo amico con il quale mi allenavo quando eravamo ragazzi. Si chiamava Paolo, non c'è più, non è più tra noi per via di un incidente automobilistico, però io ogni volta che mi alleno penso a lui, penso a quando eravamo ragazzi ci allenavamo insieme e quindi è qualcosa di molto molto importante per me. Non avrei mai potuto sostituirla con un'altra lat machine che non direbbe nulla. quindi questa è intoccabile, è artigianale, sinceramente non so Paolo dove l'avesse presa, forse in una palestra, però è una lat machine tosta, fatta veramente forse in maniera così casalinga, artigianale. Però, come avete capito, per me significa tanto. Anche questa sedia romana per gli addominali viene da casa di Paolo e usavamo da ragazzi, e anche per questo la trovate qui, è uno dei pochi attrezzi che non è appunto della serie Luxe. Quello che invece è importante è questo per me, perché è un attrezzo appunto per lavorare la schiena alta, le spalle posteriori, perché è importante, è diventato importante in questo periodo. Forse non lo sapete, se mi seguite sul mio profilo Instagram invece già lo sapete. Io sono riduce da un'operazione piuttosto importante alla spalla destra, che mi ha obbligato a rimanere fermo per tre mesi e affrontare una riabilitazione piuttosto importante. Ho subito un intervento di diverse ore che mi ha portato la spalla ad essere meglio di prima. Però ho un impianto in titanio, mi hanno dovuto limare delle ossa, cucire dei tendini, insomma ho avuto dei problemi al sovraspinato, all'omero, insomma ho dovuto fare un bel tagliando. E ho dovuto applicare appunto tutto quello che serve per la giusta riabilitazione. Quindi elastici, esercizi, sono arrivato a fare fino a un'ora di esercizi tutti i giorni solo per la mia spalla. E questa è stata importante perché questa macchina mi ha aiutato nei primi momenti, quando ho potuto abbandonare un attimo temporaneamente gli elastici, a lavorare la mia spalla. Quindi lavorando in una maniera utile per il recupero, per la spalla posteriore, proprio questa. E adesso sono quasi come nuovo e questa macchina per me si è dimostrata preziosa per il recupero. Come vi dicevo ho scelto questa linea Tecno Gym Luxe, la volevo così, la volevo di questi colori, ma non è semplice trovarla perché non è una linea nuova che tu vai e la ordini e la casa produttrice te la dà. È una linea che ha qualche anno. E allora ho dovuto cercare chi poteva accontentarmi in questa particolare esigenza. Ho trovato questa azienda, si chiama CML Gym Solution, con Luca che è un ragazzo che è stato fantastico perché è riuscito a darmi tutte le macchine che volevo, quindi anche quelle piuttosto difficili da trovare. Vi faccio un esempio, questo Legge Station è stato sicuramente difficile da trovare. Guardate poi in che condizioni me l'ha trovato, è praticamente nuovo. Si sta parlando di macchine che possono avere anche 20 anni. Guardate voi cosa ha trovato, è stato fantastico. Ma anche il Pulley, il Pulley per trovarlo è stato veramente un parto, è stato difficilissimo. Luca è stato l'unico a riuscire a trovarmi una macchina così in queste condizioni. Quindi sono macchine che sono fantastiche e sono state conservate in maniera eccellente. Queste sono ancora le coperture originali, ma sono assolutamente perfette. Un'altra macchina difficile da trovare, che io cercavo assolutamente, era questa. Questa è una macchina particolare della Technology, ma ne hanno fatte poche, ma è un'ottima macchina che simula un po' il lavoro sulla panca scotte per i bicipiti. Ed è tutto nato da qui, è qui che io ho conosciuto questa azienda, la Luca, perché appunto non riuscivo a trovare un fornitore che riuscisse a recuperarla. Lui me l'ha trovata e da qui è scattata la scintilla. Avevo detto cavolo sei veramente il top, mi sono affidato lui per la fornitura di tutte le altre. È una macchina che appunto simula, come vi dicevo, il lavoro alla panca scotte, ma che ha il vantaggio, oltre ad essere regolabile e mille cose, ha un vantaggio di avere l'impugnatura che è girevole. Quindi posso lavorare nella posizione in cui preferisco, anche in posizione a martello, posizione inversa. È una macchina stupenda, tra l'altro può lavorare poi con le due braccia collegate e quindi lavorare in maniera sincrona. Ripeto, difficilissima da trovare, CML Gym Solution ci è riuscita, quindi veramente top. E guardate anche in che condizioni me l'ha trovata. Era importante per me ovviamente avere le macchine di questo tipo, datate, ma che siano belle. Perché ovviamente, insomma, è la mia home gym e voglio che sia perfetta. Da qui poi va bene, abbiamo la classica panca scotte, libera, come Larry Scott gradisce. Anche qui vedete sempre, sì ho lasciato su un paio di dischi, vedete come sono vissuti, ma significa che appunto hanno lavorato. Il rack con i manubri non può mancare, arriva fino a 30 kg. Qualcuno dice, ma appena potreste avere anche pesi più pesanti, eccetera. Sì, però ormai io non spingo più i pesoni, i manubrioni di una volta, eccetera. Tendo più a conservare, magari a migliorare un po', perché comunque sia dopo 30 anni di allenamento non ho più la necessità di andare a puntare ai carichi e ai pesoni. Ovviamente panca inclinabile, abbiamo due panche inclinabili e una panca piana, fissa. Poi vi spiegherò anche perché, perché non mi alleno solo io in questa palestra, ma ho deciso di aprirla, ve lo dico già, anche a Giacomo e agli altri miei collaboratori che possono lavorare qua allenandosi quando vogliono. Cavi incrociati, questo è immancabile perché ovviamente i cavi incrociati devono esserci in una palestra, non possono mancare. Anche qui condizioni eccellenti. Li vedete segnati perché sinceramente li sto già usando da un po', proprio perché appunto sto facendo riabilitazione, eccetera, e quindi ci sono un po' di segni di usura, ma quando mi li hanno consegnati erano perfetti. Ovviamente il reparto gambe, abbiamo già visto il leg station prima, abbiamo il leg car, anche questo ho trovato in condizioni fantastiche. Guardate in che condizioni è, è stupendo. E poi una pressa, la pressa classica della Technogym con regolazione manuale. Non l'ho voluta con la regolazione motorizzata perché preferisco la semplicità e sono eterna in questo modo. Poi vi avevo accennato al carro armato, no? Quello che mi fa ricordare Paolo quando ci allenavamo insieme. Ed è questo. Questo è un multi-power della Fassi. Questo è veramente un bisonte, un carro armato, perché questa protezione c'è su da 25 anni e non la tolgo opposta. È veramente, veramente una belva. Cioè questo è un multi-power indistruttibile, è qualcosa che rimarrà con me probabilmente per il resto dei miei giorni. Quindi capite perché non è della stessa linea, perché anche questo era quello che usavo con Paolo quando ci allenavamo insieme. Un pensiero va anche al terzo ragazzo che era con noi. Si chiamava Enzo. Eravamo Paolo, Enzo e io ad allenarci insieme. Anche Enzo purtroppo non c'è più. Ha fatto un incidente anche lui in macchina. Quindi porto avanti io l'allenamento per entrambi. Poi, ok, ovviamente abbiamo l'attrezzo per lavorare con la panca piana, panca inclinata, per lavorare liberi con lo squat, eccetera. Questo rack. E questo l'avevo preso prima di decidere di fare la mia home gym. Quindi è di un'altra marca, però vabbè, non è male, lo teniamo. Poi magari un domani lo cambieremo. Ok, adesso andiamo dove ci si cambia. Si passa davanti. Vabbè, questa è una piccola teca dove ho inserito qualche riconoscimento. Non un riconoscimento da parte dell'arma, cose del genere. Quelle le ho a casa, però ho qualcosa che arriva da KMA dai miei allievi. Quindi va bene, qualcosa che mi piace ricordare e vedere quando mi alleno. Qui adesso c'è la parte dove cambiarsi. Anche qui, come dicevo, ho fatto fare degli armadietti apposta in tinta. Sì, devo ancora montare le maniglie, non le ho ancora montate, ma non ce la facevo più aspettare di fare questo video, quindi fate finta che ci siano montate le maniglie. Ho fatto cercare sempre da Luca una panca di questo tipo, sempre della Tecnogen, perché sono super robuste e eterne. Quindi è riuscito a trovarmi anche la panca degli spogliatoi. Tutta la pavimentazione è quella antiurto, antitrauma e appunto mi consente di lasciare andare i pesi anche in terra liberamente, eccetera, fa anche da bell'isolante. A proposito, il locale oltre a avere riscaldamento è anche condizionato, aria condizionata. Allora, vi spiego. Io non amo l'aria condizionata quando mi alleno, ma questo locale prima era, anzitutto all'inizio era il laboratorio di mio padre. Lui era un artigiano e lavorava qui ancora 40 anni fa, 50 anni fa. Poi è stato trasformato in una specie di locale così da condividere con gli amici e quindi c'erano già l'impianto di aria condizionata, però dovesse venire caldissimo, si può anche utilizzare. Ho scelto apposta il colore viola, da contrasto col bianco. Non l'ho voluto legare a KMA con i colori di KMA perché voglio che sia una cosa mia che non c'entri un KMA. Ma io, non so voi, ma questo viola lo trovo strafigo. Abbiamo due bagni. Il primo bagno, vabbè dai, ve lo faccio vedere, è un bagno, però vabbè, è un bagno. Ok, abbiamo ovviamente anche il bagno con la doccia, adesso vi porto a vedere. Questa è la sala. Guardate che bello, come ho detto, questo viola è strafigo, secondo me. Questa è una sala per il lavoro a corpo libero. Quindi è una sala che ho voluto tenere sgombera e adesso metterò dei colpitori e quant'altro. Fate conto che questa è una palestra da pesistica perché è il mio hobby, ok? Il mio divertimento. Non c'entra con il Krav, quindi con tutto quello che sono attività e strumenti, attrezzature per il combattimento, quello che mi alleno da un'altra parte. Però una sala appunto per il corpo libero l'ho voluta. Fate conto che qui era veramente, come vi dicevo prima, quando era un locale così per divertirsi, completamente diverso. Magari buttiamo dentro qualche foto, qualche immagine di come era prima, dei lavori che abbiamo fatto. C'è stato veramente, veramente tanto lavoro per trasformarlo. E anche qui è condizionato, quindi nel caso abbiamo tutto. E poi abbiamo questo bagno che questo l'ha fatto mio padre e quindi non ho voluto cambiare niente se non appunto mettere qualcosa dei colori giusti che piacciono a me. ma è un locale che ha creato lui, ha piastrellato lui, con la doccia eccetera e quindi ho voluto lasciarlo esattamente come era. Tutto il corridoio è lungo, importante e questo è prezioso perché abbiamo la possibilità di lavorare, non so, vogliamo fare un esercizio di affondi, quindi vogliamo lavorare con i nostri manubri o col bilanciere. È possibile anche lavorare e fare degli esercizi appunto a corpo libero, con i pesi, ma dove ci richiede un certo spazio di corridoio libero e questo è importante. Come vedete in giro intorno non ho ancora messo niente sui muri, lì c'è anche una parete piuttosto grande, completamente spoglia perché devo ancora decidere se mettere dei loghi, se appendere qualcosa, quindi con calma quando ho l'ispirazione giusta lo farò. Intanto mi ha fatto molto piacere mostrarvi quello che io ho un po' sempre sognato, che finalmente riesco ad avere. Adesso la mia riabilitazione è finita, quindi posso tornare a pompare, a spingere come un tempo, anzi meglio di prima e quindi non vedo l'ora di tuffarmi e godermi questa mia home gym. Mettete un like se vi piace questa mia palestra, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche con la campanella così non perdete niente di tutte le novità che voglio portarvi e ancora una volta grazie a CML Gym Solution che mi ha dato la possibilità di realizzare la palestra nei miei sogni. Se volete anche voi acquistare o una palestra intera o anche solo un macchinario, avere una consulenza, una riparazione, io vi consiglio assolutamente questa azienda perché sono assolutamente disponibili, sono gentilissimi, sono super forniti, hanno un allestimento e un magazzino pieno di macchine di tutti i tipi, quindi mi sento veramente a dirvi che io mi sono trovato da Dio con loro. Vi lascio il loro contatto qua in descrizione e ovviamente stay safe! Grazie! 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 Grazie!